Lavori per l'allungamento della pista dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e il potenziamento dello scalo. L'iter è appena cominciato, dopo il nulla osta del Consiglio di Stato che, sul ricorso di GESAC, la società che controlla l'aeroporto salernitano, ha ribaltato la decisione del TAR e dato il via libera agli interventi in programma poco più di 50 ettari per fare un paragone, circa 60 campi di calcio pronti ad essere espropriati per realizzare l'ampliamento dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. La procedura interessa 90 proprietari che saranno costretti ad abbandonare terreni e abitazioni. La stima per i costi degli espropri è di 10.360.000 euro, così suddivisi 6.280.000 euro per il valore venale dei terreni, 138.000 euro come indennità aggiuntiva fittavolo, 475.000 euro indennità strutture, 229.000 euro per le indennità fruttopendente, 110.000 euro indennità depreciamento reliquato, 2.421.000 euro indennità fabbricati, 512.000 euro per imprevisti e 195.000 euro per spese notarili, verbali e frazionamenti.